persino se vai dalla panettiera luogo più comune più quotidiano del mondo tu oggi trovi scritto che tra pochi giorni è la festa di halloween ma noi ci siamo chiesti che cos'è questa roba siamo lì tutti teneri tutti pieni di tenerezza verso i nostri bambini che disegnano i mostri le streghe i diavoli con le corna sai che bella tenerezza vedere un bambino che gli viene insegnato a disegnare i mostri con cinque teste con i denti da vampiro col sangue con con i cappelli delle streghe bellissima festa belli pedagogicamente è fantastica dopo li portiamo dagli psichiatri dei psicologi perché dopo un po cominciamo a dire ma non dorme più si sveglia angosciato c'ha l'ansia è disturbato te va chissà come mai ma noi ci mancherebbe che ci mettiamo a chiederci ma che cos'è sta roba io da piccolino mai sentito sta cosa qui di halloween e non e non vengo dal mesolitico cioè non sono cresciuto insieme ai dinosauri eh da piccolino che 40 anni fa non c'era questa roba qui ma io ho mai visto girare nessuno con le zucche in mano anzi se mi dicevano che era una zucca mi offendevo mai visto disegnare diavoli o mi hai visto le mie compagnie andando in giro vestite come le streghe e da dove viene questa roba qui che cosa vuol dire una cosa innocente tranquilla serena carina perché noi dobbiamo sempre scimmottare quello che fanno in america altrove no quindi se da domani quelli mangiano con i piedi per aria anche noi dobbiamo mangiare con i piedi per aria senza chiederci il senso quello che adesso io vi dico non è che dovete credere perché ve lo dico io andate stasera a casa su internet battete e trovate le stesse cose che vi dico io non sono frutto della mia sapienza sono frutto di un po di informazione che proprio dobbiamo dircela per essere coscienti questa festa ha delle radici nel paganesimo e nel satanismo e continua a essere ancora oggi una pericolosa forma di idolatria demoniaca da dove viene nello specifico trae origine da un'antichissima celebrazione celtica diffusa nelle isole britanniche nel nord della francia sentite che roba con cui i pagani adoravano una delle loro divinità chiamata sam hain signore della morte bellissimo che i nostri bambini festeggiano il signore della morte stupendo era considerata una delle feste più importanti e dava inizio al capodanno celtico la notte del 31 ottobre in onore del sanguinario dio della morte sam hain veniva realizzato sopra un'altura un enorme falò utilizzando rami di quercia albero ritenuto sacro sul quale venivano bruciati i sacrifici costituiti da cibo animali e persino da esseri umani questa festa è considerata il capodanno magico voi sapete che una delle frasi tipiche di questa festa è dolcetto scherzetto carini che veri bambini puffosi che veri dolcetto scherzetto e noi come i somari diciamo ma no dolcetto e stiamo a fare anche noi gigilloni no perché adesso va di modo la tenerezza quindi tutti i teneri no un po come i puffi ma siccome non bisogna essere ignoranti perché la tenerezza non è sintomo di ignoranza ma è ben altra cosa analizziamo cosa vuol dire questo scherzetto e dolcetto se è così innocente in inglese l'espressione sarebbe trick or treat c'è una somiglianza trick tradotto letteralmente andate a vedere il suo vocabolario significa stratagemma trucco e inganno qui con lo scherzetto non ci abbiamo niente neanche col dolcetto qui vuol dire ben altra roba che in realtà nell'uso che facevano loro era maledizione o sacrificio dopo capirete perché maledizione o sacrificio treat invece significa piacere gioia e godimento che nella bocca di un bambino non ci sta proprio piacere e godimento un bambino non sa neanche che cos'è non c'entra niente quindi qui un miscugio tra maledizione e godimento una meraviglia qual era la logica che stava sotto la logica era quella che attraverso trick e treat tu dicevi o tu mi dai del denaro e del cibo questo era quello che facevano i druidi nelle andare di casa in casa in quella notte chiedendo o denaro o cibo o sacrifici umani oppure trick ti do la maledizione non c'è nessuno scherzo qui sotto questa è una forma di maledizione se tu non mi dai quella cosa io ti maledico quindi fermiamoci un secondo e ragioniamo perché dopo abbiamo voglia di andare a riempire le liste degli esorcisti perché siamo disperati non sapiamo da che parte girarci dopo cominciamo a dire senti rumori cominciamo a dire sono disturbato sto male i dottori dicono che non c'ho niente a me non dormo più io c'ho l'ansio non sto bene che cos'è che cos'è è che cos'è io sono rimasto molto impressionato quando a un corso di esercizi abbia accanto a tavola un esorcista famoso e mi ricordo che ci disse tante cose era un corso di esercizi per noi sacerdoti e io ascoltavo a un certo punto mi è venuta fuori questa frase gli ho detto ma padre ma io stai così qui non ho mai saputo mai sentite dico ma succedono anche a uno che non le sa e lui mi ha guardato e mi ha detto caro padre giorgio maria se io adesso ti metto qui una bottiglia di vino avvelenato e tu non lo sai e tu lo bevi poiché non lo sai questo vino non ti fa niente di male basta io non ho parlato più ho detto caro giorgio svegliati invece di perdere il tempo parlare a guardare le bagianate la televisione o a parlare di chiacchiere inutili informati sulle cose importanti della vita vai veramente a vedere il senso delle cose noi ci rendiamo conto che queste feste questa festa viene è celebrata negli asili negli asili negli asili si preparano queste robe qui andate a vedere su internet qual è il significato della zucca vuota da dove dove si aggancia questa leggenda della zucca vuota è un incontro tra un alcolici noi non siamo pagani no ai nostri ragazzi diamo contenuti ah ma noi andiamo a fare una festa non si fa festa col diavolo non si scherza col fuoco non si scherza su queste cose